Lei è il professor Paganetto perché ci date l'opportunità di fare ogni anno un momento di riflessione sulla comunicazione. In Enel ospitiamo spesso e chi ci segue un po' da vicino eventi come questo, anche più piccoli devo dire, ma che colgono l'attenzione sull'innovazione nel nostro mestiere e credo che sia molto utile per tutti avere un momento di confronto. Parlerò come direttore della relazione esterna di Enel ma non posso esimermi anche di rappresentare la FERPI di cui sono presidente e augurarmi che il nuovo anno porti nuovi iscritti, essendoci qua molti comunicatori, forse anche qualche studente universitario, credo che sia utile, soprattutto in un momento nel quale ci si avvicina forse a una crisi anche nella comunicazione, avere un'associazione dove confrontarsi è utile. Vi invito ad andare nel nostro sito ferpi.it che lì troverete un sacco di informazioni anche sul nostro lavoro e sulle nostre attività. Il tema è abbastanza interessante, credo è complesso, è comunque un tema sul quale noi ci stiamo confrontando in maniera molto forte, il tema del consenso riguarda chi opera nel campo dell'infrastruttura e dell'industria, ma riguarda anche chi deve vendere dei prodotti. Quindi un'analisi, una riflessione su come dobbiamo riarticolare il nostro modo di interagire con l'opinione pubblica, credo che sia un dovere per chi fa questo mestiere. Ovviamente è un tema che meriterebbe forse 12 tomi e un intero ciclo di lezioni, per cui io andrò più a flash che a approfondimenti, ma credo che ognuno di voi essendo professionisti del mestiere troverete poi, se lo riterrete, gli stimoli per approfondire e per verificare quelle che sono le tesi che esporrò. La prima parte del mio intervento, che spero abbastanza breve, riguarderà un po' i dati di fatto, ma che secondo me dobbiamo guardare con grande oggettività, se vogliamo capire poi che cosa fare, e quindi la seconda parte dell'intervento. I primi dati di fatto sono che viviamo in un mondo complesso, e lo credo ognuno di noi nel proprio lavoro ne è cosciente, abbiamo un mondo complesso e sempre più in movimento, e soprattutto un mondo nel quale il numero di cittadini che hanno un grado di alfabetizzazione elevato è certamente notevole e molto maggiore rispetto a 10, 15, 20 anni fa. Cosa significa questo? Do qualche dato, il 75% delle persone nate dopo gli anni 70 ha finito il liceo, mentre negli anni 40 era meno del 40%. Solo nel nostro paese ci sono circa 9.000 studenti e il 78% terminano la scuola e il 78% terminano il liceo contro il 51% del decennio precedente. Quindi numeri che ovviamente confermano quello che sappiamo, ma cosa vuol dire essere più alfabetizzati? Significa maturare un'opinione in proprio, quindi non delegare il potere di scelta, di scelta politica, di scelta sociale, di scelta anche da consumatore a nessuno, e quindi incrociamo dei soggetti a tutti i livelli che hanno l'ambizione, hanno anche le capacità di leggere la realtà, di confrontarsi sulla tua proposta e di crearsi e promuovere una propria opinione. Secondo elemento che fa di questi soggetti, soggetti ben diversi da quelli che i nostri predecessori studiavano nelle loro attività di comunicazione e marketing, e la diffusione di nuove tecnologie. Internet consente a questi soggetti più scolarizzati una capacità di comunicare e di informarsi certamente maggiore. Libro accesso all'informazione, capacità di rielaborare l'informazione, diventare protagonisti dell'informazione è ormai un dato di fatto sul quale noi ci confrontiamo. In Internet navigano nel mondo 1 miliardo e 300 milioni di persone, 110 milioni di blogs, ma mentre lo dico sappiamo che questi dati sono già vecchi perché andrebbero aggiornati minuto per minuto, 200 milioni di persone che visitano i social network attraverso il proprio telefonino, in traffico Internet è cresciuto in maniera smisurata, motore di ricerca, tutto quello che voi sapete e che noi sappiamo consente a questi soggetti di essere dei protagonisti attivi, quindi gente che sa e che sa utilizzare l'informazione è propagarla in maniera intelligente nella rete, diventando anche degli opinion leader e quindi noi nelle nostre imprese ci troviamo di fronte a soggetti che attraverso delle semplici informazioni elaborate e diffuse in maniera veloce attraverso la rete creano un'opinione, coagulano degli interessi che non emergono ancora attraverso i media tradizionali, quindi l'azienda tradizionale non è in grado di intercettarne la portata.